sapete come adeguarvi alla nuova normativa fiscale dovete avere un registratore telematico un registratore telematico è una particolare stampante in grado di comunicare con l'agenzia delle entrate direttamente dal vostro punto cassa per prima cosa assicuratevi di avere una connessione internet dove installerete il registratore telematico chiedete al vostro fornitore del software di cassa se necessario adeguarlo rivolgetevi al vostro fornitore di fiducia per sapere se il vostro prodotto epson può essere aggiornabile oppure dovete procedere all'acquisto di un nuovo registratore telematico è importante sapere che la legge prevede un credito d'imposta del valore fino a 50 euro per adeguamento e fino a 250 euro per l'acquisto di un nuovo registratore telematico a questo punto siete in regola il registratore telematico trasmetterà a fine giornata automaticamente i corrispettivi all'agenzia delle entrate e voi potrete controllare tranquillamente i dati trasmessi tramite il portale web dedicato attenzione la nuova normativa abolisce l'utilizzo delle ricevute fiscali per certificare i corrispettivi dovrai quindi acquistare un nuovo registratore telematico per esempio Grazie a tutti.